L'ultima trovata di Matteo Renzi è l'Imu sulle funivie, lei cosa ne pensa? A cosa vuole che ne pensi? Ormai siamo alla follia con questo governo. Se si vuole affossare il turismo in Valtellina e in Valchiavenna, se si vuole mettere in sofferenza ancora di più i nostri impianti, si dovevano inventare questa cosa, collusi con la Corte di Cassazione, ovvero sia che gli impianti e fune dovranno pagare l'Imu. Questa è una pazzia. Noi abbiamo da subito predisposto in Commissione un'interrogazione al Ministro. Adesso abbiamo il nuovo Ministro dei Trasporti che è il Premier Matteo Renzi. Vediamo se si degnerà di rispondere, almeno lui. Su questa questione non è possibile che gli impianti a fune nelle nostre montagne dove siamo in sofferenza in questo momento per quanto riguarda il turismo vogliamo anche fare pagare l'Imu agli impianti a fune e alle seggioie. Non abbiamo parole. O forse qualcuno deve recuperare i soldi promessi agli italiani negli 80 euro e dovremo dare ancora del nostro.